Non ha mai perso conoscenza, ma sembra che dopo l'urto abbia manifestato segni di amnesie dovute al forte trauma cranico subito. Per questo motivo i sanitari del 118, intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi in via antica milizia, hanno deciso per il ricovero di una bambina di 10 anni al Bufanini di Cesena. La bambina è stata investita da una lancia musa a pochi decine di metri dal centro sportivo di Ibling. Non è ancora chiaro se stesse attraversando sulle strisce pedonali o se, distratta dalla musica che ascoltava negli auricolari, non si sia accorta che stava sopraggiungendo un'auto e abbia attraversato la strada. Sul posto la pulizia stradale, oltre al personale del 118.